Sono nove i casi positivi da Covid-19 che si sono registrati in città. A comunicarlo il sindaco Michele Abbaticchio sulla sua pagina Facebook. Le persone interessate sono in isolamento domiciliare sotto il controllo della ASL. Nessuna di loro presenterebbe condizioni gravi. Nella situazione epidemiologica cittadina continuano a persistere però le differenze sostanziali tra i numeri comunicati dalla prefettura al nostro comune e i casi che appaiono invece colorati sul bollettino epidemiologico regionale che inserisce la nostra città nella fascia con casi attivi tra gli 11 e i 20. Intanto nonostante l'aumento dei contagi che si sta registrando in tutta Italia nella nostra regione sembra che i giovani non abbiano nessun timore di passare le loro serate senza nessun distanziamento sociale. Tanto che nelle scorse serate è stato persino necessario l'intervento della Guardia di Finanza per far scendere dalla terrazza del Torione i giovani assiepati. Per loro è fioccata anche qualche sanzione. Tanto tuonò che piove. Insomma, alla fine il sindaco Michele Abbaticchio è stato costretto a porre una recinzione dinanzi le scale d'accesso della terrazza. Durante l'ultima diretta inoltre il primo cittadino aveva ribadito che la mascherina è diventato un accessorio fondamentale. Stare senza mascherine equivale ad essere e a girare nudi per strada, ha chiarito con un esempio. Se siete nudi siete più attaccabili dal virus. Questa è una situazione con la quale dobbiamo convivere e con cui convivremo anche con l'apertura delle scuole. Proprio in merito alle scuole è ancora Abbaticchio a chiarire che è il Comune e alle dipendenze delle decisioni del Ministero della Pubblica e Istruzione. Bitonto sta facendo la sua parte e ha detto non appena saremo pronti con una comunicazione dettagliata ed esaustiva in riferimento a mense, trasporto, scolastico e organizzazione delle aule, ve lo comunicheremo.